Uno sprint è molto veloce e ho sprecato troppo prima, va bene così, le prossime volate vedremo. Com'è la forma? Dopo un mese è abbastanza buona comunque, speravo di averne un po' più nel finale ma ho sprecato troppo. Odega è impressionante, per cui Stefano che è il settore? Si, si mettono davanti a tre chilometri e fino all'arrivo stanno davanti.